Bene ragazzi, benvenuti in un nuovo DevOran e oggi parleremo appunto Questa oggi è l'ultimo dei miei dev diari che parlano della 1.31 Questa settimana andremo a parlare di Sunda, Laksang, Eternate e Tidore Che non so chi cazzo, Tidore mi sembra che è nelle Filippine Allora, questo è l'albero delle missioni di Laksang, la terra dai milioni di elefanti Oh, ua minchia che titolo di classe Andiamo a vedere, Laksang è stato formato nel 1353 durante il collasso dell'impero Khmer Un principe Lao, o Fangum, aveva ricevuto un'armata del re del Khmer Insieme all'autorità di creare uno stato, cuscinetto alleata nel moderno Laos Ok, fin qui ci siamo Una volta il Laos era regnato direttamente dal Khmer Ma l'impero non era più capace di esercitare un qualsiasi controllo sulla regione Quindi probabilmente rivolte, schieramenti, battaglie, sfide C'è praticamente sangue in questa zona Vabbè, una volta, vabbè, andiamo a Fangum succedette nelle sue battaglie Crea il regno dei Laksang Diventando in ultimo più forte dell'impero decedente del Khmer Quindi praticamente, per questo vedremo anche su Europa Universalis IV Un Khmer un po' decadente come impero Diciamo un impero decaduto tra virgolette Alcuni punti salienti delle missioni Andiamo a vedere le missioni in questo caso Molto similamente al labbro del Dai Viet Una parte del labbro di missione Laksang inizia con il conflitto per Muang Puang Avere una provincia fa la Subjected Ra Un casus belli Subjection sui Dai Viet Quindi puoi sottomettere il Dai Viet con questa bella missione La missione Ride on Cambodia ti dà un casus belli di sottomettere su Khmer Quindi parliamo di due missioni abbastanza interessanti Mi piace che comunque poi in questa zona comunque tra vari popoli si possono sottomettere Dovrai vassalirizzare Lana da solo Ma una volta fatto potrai avere un casus belli di sottomissione anche su Ayutthaya Questo è molto interessante Quindi praticamente con Laksang puoi stradominare tutti Vedremo, può essere che forse lo vediamo per nei tornei del Oran Dev No Oran Dev, Oran Clash in questo caso Continuiamo La settimana scorsa si parlava della meccanica del Buddha di Smeraldo E Laksang è una di quelle nazioni che devono rubare il Buddha come parte delle proprie missioni Quindi in questo caso anche Laksang ha una delle missioni di rubare questo mitico Smeraldo Cioè il Buddha di Smeraldo, questa meccanica particolare La missione Avoid Fragmention ti chiede di sopravvivere intatto fino a 1700 Praticamente Laksang... Questa missione è carina, Laksang deve resistere fino a 1700 Chi sa il cazzo di bonus da? Che ovviamente non sappiamo il 99% tutto Ma 80% Nonostante esiste la missione Avoid Fragmention per Laksang Questo non significa che Laksang ha un disastro particolare per esplodere Infatti il Disastro Vanilla Civil World riceverà degli eventi speciali per Laksang che lo faranno finire così Quindi anche qui vediamo qualcosa un po' fuori posto Un po' secondo me quella più picchiata per adesso è Machia Pait Poi Kmer, poi Dai Viet e poi Laksang in questo caso Le migliori abbiamo visto sono Ayutthaya, Malak, Brunei Sembrano molto tranquilli anche le altre nazioni Quello è un po' che aumenta la difficoltà secondo me il Machia Pait e Kmer in particolare E poi in modo medio vediamo Dai Viet e Laksang come difficoltà Se durante questo disastro dei ribelli pretendendo dovessero occupare Vientiane Champasak o Luang Prabang uscirà un evento che rilascerà le nazioni stesse Se quando esce questo evento tu non hai le due altre città Allora la tua tag cambierà esempio Non hai nel nord e nel sud Quando esce l'evento diventerai Vientiane Minchia, praticamente un casino Per evitare tutto questo devi fare la missione a Void Fragmentation Non formare un'altra nazione oppure non far iniziare il disastro della guerra civile Vabbè, questo è molto più facile da tenere Nel senso che, oddio Per fare la missione devi aspettare 1700 Quindi devi stare con l'ansa tutto il tempo Ma puoi fissare questo problema evitando il disastro delle guerre civili Oppure cambiando tag praticamente È un po' più fixabile a differenza di Hakuni È un po' più dura in questo caso Andiamo avanti, andiamo a vedere ovviamente le altre cose che sono interessanti Piccoli cambiamenti per quanto riguarda le idee dell'Aksang Ah, quindi ci sono anche cambiamenti per le idee Questa cosa è molto bella Allora, dal 10% cavalleria combattability a 15% Visto che effettivamente veniva chiamato il signore degli elefanti Praticamente Un missione strange a 15 cavalli Questo è buonissimo, 15% Tra la differenza tra cavalli e fanteria Questo è buono Praticamente usarei un casino degli elefanti con l'Aksang Immagino tu quello degli elefanti Allora, l'Aksang può formare Siam per avere C'è stato un obbligo di un missione più ampio e delle nuove idee Ah, ok, può formare anche l'Aksang E può avere ovviamente le missioni più lunghe Più enormi praticamente Immaginate usare la cavalleria in un trade node de merda Sì, infatti, anche questo è vero però Che fa anche schifo quella zona Però, in realtà non così tanto Perché se controlli la zona del Siam Che il commercio è un po' cambiato È stato sistemato Potremmo avere differenze Allora, toleranza con religione Questo dato, toleranza verso ieri Le altre religioni più 5 Toleranza per la tua religione Meno 2% Missionari in meno 100% Local, religione unita Controversione in meno 100% Questa non è male Ma comunque può fare Non è chissà cosa Cioè, una buona meccanica nuova Che hanno aggiunto per gli estates Ovviamente gli estates li vendiamo sempre di più Con gli aggiornamenti in questo caso Andiamo a vedere il resto Qui sopra possiamo vedere uno non privilegio Vabbè, questo abbiamo visto Che il privilegio degli estates L'Aksang inizia con il privilegio Ah, inizia proprio con questo privilegio Nel 1444 Ed è disponibile a tutte le nazioni L'Ao Nel gruppo religione estern Aumenta di molto la propria tolleranza Dei pagani E nega la penalità religiosa Quindi anche questo è buono Che comunque Non hai problemi Con i pagani E in più Non hai Il problema di Religione unita Nelle tue province animiste In questo caso Ma aumenta anche di molto L'influenza del credito E tenere il tuo bonus Più due Toleranza Verso la tua religione Vabbè Nelle idee di L'Aksang La missione Convert the Polytheist Ti chiede di revocare Questo privilegio Convertire tutti gli animisti Nella tua nazione Ed avere almeno 90% di religione unita Per aiutarti a levare Il privilegio dei missionisti E all'esmeralde Da più 20% Della realtà del credo Ah questo è buonissimo Quindi praticamente C'è un modo Per fixare anche questa cosa Per eliminare questo Estates Praticamente Per quanto riguarda La religione Questa è la mappa religiosa Nel 1444 È importante notare Tutte le province animiste Dell'Aksang Il bastione di Mahayana Nel Parang Inferiore No no Interiore E il fatto che adesso Ligore è una nazione buddista Andiamo a dare un'occhiata Infatti vediamo Che c'è comunque Parecchi di loro Che credono ancora Nella regione animista In quest'area Comunque ce ne sono Veramente un casino Anche le Filippine Varie zone Queste qua Beh qua già c'era questa cosa Vediamo gli hinduisti In quest'area Adesso Vediamo il sunnismo Che è meno presente A differenza di prima Che prima erano Cioè i sunniti Li trovavi ovunque Praticamente Vediamo i buddisti Che comunque Sono sempre una religione Piccola A differenza degli altri Ma comunque C'è una buona influenza C'è in più La religione Mahayana Che in questo caso È creduta Dai Viet Poi vediamo Gli hindu E varie regioni Un po' sparse Che diciamo Che qua la solita situazione Un po' particolare Vediamo che anche Su quest'isoletta C'è il buddismo In quest'area Quindi magari Questa nazione È più facile Allearsi con la Yutthaya Magari è abbastanza giocabile Ma vedremo Nelle prossime Quando uscirà L'aggiornamento In questo caso Andiamo a vedere Dettagli scioccanti Questa è una cosa Ragazzi Che volevo parlarvi Proprio di questo Dei dettagli scioccanti Come possiamo vedere In basso a destra Di questa mappa Ci sta Una religione Tutta nuova Quindi anche Probabilmente Nuove nazioni Giocabili In Australia Una volta Chiesto allo sviluppatore Cosa c'è In basso a destra Di questa mappa La religione Lui risponde con Io non ho la minima idea Di cosa tu stia parlando Quindi Tecnicamente Ragazzi Una bella notizia Che questa è una cosa Che pure speravo Che facessero prima o poi E sistemare l'Australia E magari aggiungere Qualche piccolo Paese O qualche regione In particolare Perché effettivamente L'Australia Non è un continente Cioè un'isola Così piccola Comunque Ragazzi L'Australia è veramente Grossa Cioè Quanto è grosso ragazzi Penso che sia Grande quanto Mezza Europa Praticamente Ma non so Effettivamente La superficie dell'Australia Cioè i chilometri Quanto è Però comunque Vediamo Un'Australia Che effettivamente Su una cosa Immenso 6-7 province Colonizzabili Secondo me È anche un po' Inguardabile Questa cosa Andiamo a vedere Proprio il mondo Perché io voglio Proprio mondo convenienza Non l'ho mai scritto Però va bene Andiamo a vedere Proprio L'Europa Cioè l'Australia Ragazzi È molto grossa Cioè cazzo È molto più grande Dell'Indonesia Eppure ha un casino Di nazioni Di zone colonizzabili Di aree Cioè Secondo me L'Australia adesso Può essere importante Per La giocabilità Nel senso Anche colonizzare Quell'area È importante Cioè alla fine L'Australia Cioè tra Colonizzare l'Australia O la zona Malacca E tutte quelle aree lì Io avrei preferito Colonizzare quello Che è l'Australia Però questi sono dettagli Sperando che Fanno qualcosa di carino Quindi Non sono finiti I dev Oran Non sono finiti I dev Diari Della Paradox Per quanto riguarda I robo universali S4 Penso che gli ultimi Saranno proprio appunto Per l'Australia E vedremo Ragazzi Vedremo L'Australia è un grandissimo Deserto Non mi sorprendo Che era Se era un carcere Non credo Per questa cosa Poi ne parleremo Allora Andiamo per le missioni Del Sunda Il Sunda è una nazione Malaya Quindi ha sempre Le missioni di cultura Malaya Però diamo un'occhiata Alle missioni sulla sinistra Intanto andiamo a vedere Il Sunda Che è una nazione Vi spiego dove si trova il Sunda Il Sunda si trova a sinistra Di Machia Pait Prima era vassallo Adesso dovrebbe essere Semplicemente Un tributario In questo caso Il regno del Sunda È un antico reame Che è rimasto vivo Nei secoli Senza però mai riuscire A stabilire un'egemonia Nella regione Quindi non si è mai Trovata diciamo Quella stabilità perfetta Per avere un regno stabile Ok Andiamo Per il resto Per quasi tutto Il tempo in cui sono vissuti Machia Pait e Sunda Hanno sempre avuto Buoni rapporti E si sono sempre Riconosciuti come uguali Nonostante la disparità In forza Tutto questo è cambiato Quando il generale Del Machia Pait Gajamada Promesse di portare Tutto il Nusantra Sotto il Machia Pait Usando un matrimonio reale Per dichiarare la supremazia Di Machia Pait Su Sunda Questo risulta Nella battaglia Di Bubat Nel 1357 Che Sunda Perse decisivamente Nonostante questo Il Machia Pait Non andò a conquistare Sunda Invece La corte del Machia Pait Punì Gajamada Per le sue azioni Disonorevoli E gli dò Sotto tutti i poteri Sunda è sopravvissuta Ma le relazioni Tra i due stati Non si sarebbero mai riprese Ovviamente Qua parliamo Comunque Con un generale In passato Ha creato casini Tra le due nazioni Per questo vi dico Non fidatevi mai dei generali Alcuni punti salienti Delle missioni del Sunda Soprattutto su Imperator Rom Alcuni punti salienti Delle missioni del Sunda Andiamo a vedere Le missioni del Sunda Che secondo me Sarà un buon pick Vedremo poi in futuro La missione Consider Islam Ti chiede di avere 4 province e Sunni E fa partire un evento Che ti darà l'opportunità Di convertire all'Islam Convertendo tutte le tue province Questa è una cosa bella Quindi puoi diventare sunnita Ma non so quanto Convenga da 1 a 10 Mettendo chiaro Che l'induismo Comunque non è Una brutta religione Ma C'è sempre da vedere Le migliori sono Protestantesimo E riformante Alternativamente puoi prendere Più uno missionario Strange Più un tolenanza Per il mio punto di vista Ovviamente Vabbè Questa è un po' una missione Cazzo di cane La missione successiva Develop New City Ti chiede di aumentare Il dev di Siribon Calappa e Banta a 20 Questa è molto carina Vedremo come Andrà a finire poi Sarà un po' difficile Visto che lì Le province costano un fottio Per aumentarle Questo farà partire Un evento Che ti chiede di relocare La capitale della tua nazione Sceglie Siribon o Banten Ti farà cambiare tag In Siribon o Banten Bellissima questa cosa Praticamente Queste missioni Ti portano a cambiare tag Praticamente Qualsiasi capitale Tu sceglie Ti farà aumentare Il dev in quella provincia Di 2 Ogni categoria E rinomereà Calappa In Vajayakarta Ma che nomi fantasiosi La missione Rebult Khan Di Templars Ti chiede di avere Almeno 15 templi E trovare un allenato buddista La missione sblocca La dieta speciale dell'Hindu Di cui abbiamo già parlato La missione Improved Reads Produce con tisblocca E privilegio degli estetis Improved Regression Che ti dà Mena 10 dev costi In tutte le province Col grano Questa è una cosa buona Ma non chissà cosa La missione Legacy of Bubat Ti chiede di essere Abbastanza forte Da garantire E Machiapahit Questo fa partire Un evento Da descrivere Un Royal Merry Tra Sund E Machiapahit E al contrario Del trattamento Recevuto secoli prima Adesso E Sund A dettare le regole Questa è invece Molto carina Che si rispecchia Sulla storia Che magari Il Sund Si vuole vendicare Di questa Questione Machiapahit Del generale Per la questione Di conquista Delle terre La missione Ti dà Machiapahit Come vassallo Alla fine Buonissima Questa La missione Rullo Jawa Ti chiede di controllare Tu stesso L'isola di Jawa Machiapahit E Sund In cambio Ti dà Più uno Free Ah buonissimo Questa Una police free Sull'amministra Per tutto il game La missione Conquer Lampio Ti dà Casus belli Di sottomettere Su tutte le nazioni Con la capitale Assumata Ah porca puttana È bellissima Queste missioni Cioè oddio Metà sono un po' Un po' Noiosine Classiche Praticamente Però dopo Si rivelano Veramente belle Soprattutto quella Contro il Machiapahit Con Con Il fatto che ti dà La police free Perché non abbiamo visto Una missione del genere Andiamo avanti Sunda Sembra molto interessante Potrebbe esserci Nel torneo Di Oran Clash Vedremo ragazzi Ci sono tante nazioni Adesso Giocabili In questa parte del mondo Prima no Così tante Andiamo a vedere Missioni nuove Per Ternate E Tidore Ok queste sono le piccole Mi pare le piccole isolette Non nelle Filippine Ho sbagliato prima Vicino all'isola Borneo Mi pare Allora queste missioni Ti portano a sconfiggere Il tuo avversario E dominare il commercio Dei chiodi di Garofano Quindi I chiodi di Garofano Ragazzi Abbiamo capito Effettivamente Dove si trovano Praticamente L'ha detto proprio Bello chiaro Queste missioni Ti portano a sconfiggere Il tuo avversario E dominare il commercio Dei chiodi di Garofano Dove sono? Beh avete capito tutti Quindi Multiplayer Saranno interessati Ad espandersi In quell'area Effettivamente Prima che gli europei Vengono A mangiare Quello che trovano Le missioni Inizieranno Chiedendo di rimuovere Il tuo avversario Dalla mappa Questa è una cosa Molto carina Una volta che l'avrai fatto Ti apparirà un evento In cui ti verrà chiesto Dove mettere La tua prima colonia La missione successiva Bellissimo questa cosa Quindi praticamente Scegli una Ti crea una colonia Ma è fantastica Questa cosa Le missioni successive Nella branca Sienesta Ti chiedono di continuare A colonizzare In alcune aree Dandoti Altre colonie gratis Quando lo fai Questa è una cosa Molto bella Quindi così Non vediamo che gli europei Basta che colonizzano E vincono loro Completando Questa branca Receberà Più un colonist E meno 50% Native Oppressing Change Per tutto il game Buonissimo Cazzo Prendi un colono Così a cazzo di cane Senza fare l'idea Raga è buonissimo È buonissimo Porca puttana La missione Export Cloves Ti chiede di essere La nazione Col trade power Più alta Nel trade node Delle Molucas Vabbè ci sta anche Come missione Insieme a costruire Fino a Naval Force Limit Ti dà un claim Permanente su Sulla Wasi Che dovrai conquistare Nelle missioni successive Molto interessante Ragazzi Queste nazioni Sono molto interessanti Essendo monoprovincia Non so se è fattibile Metterle per il torneo Però hanno delle missioni Veramente belle ragazzi Effettivamente potrebbe essere Anche un pic interessante Oh Comunque ragazzi Facciamo caso Comunque Nella parte Del Di questa parte del mondo Ci sono stati Vari cambiamenti Ci sono pare nazioni Che effettivamente Si possono mettere nel torneo Ok Nel prossimo torneo Abbiamo già detto Che vedremo sicuramente Dai Viet Come nazione giocabile Dai Viet Malacca E Brunei Quindi saranno questi Tre pic Il quarto Effettivamente ancora Non l'abbiamo scelto Perché vogliamo mettere Quattro nazioni Per ogni zona Del continente Zona diciamo Non continente Ma dell'aria Perché abbiamo visto Che nel torneo Comunque lasciare solo Uno, due O tre player Non è proprio il massimo Ma quattro Comunque lo spazio Finisce anche per loro E c'è anche questa tensione Nella zona asiatica Non vediamo una Russia Che si espande A livelli disumani Abbiamo fatto anche Cambiamenti per il torneo Anche voi che state Guardando questo video Ragazzi Se volete iscrivervi al torneo Basta entrare sul nostro Discord Che troverete in questo video In descrizione In questo video Sotto la descrizione Praticamente Unitevi Troverete un canale Bello Iscrizioni Europa Universale S4 È facilissimo Compilare E partecipare al torneo Vedete Ogni domenica A noi Dalle 15 Fino alle 20 Ci sarà il torneo Di Europa Universale S4 Si gioca dalle 16 10 Fino a 19.10 Quindi ragazzi Non perdetevelo Anche questo Fatelo anche per me Allora Nuovo set di missioni Per i Bali Anche il Bali Qui vedremo le missioni Bali e di cultura Malaya Quindi ci avveranno anche Le missioni del gruppo Cultura Malaya Ok ci sta Bali inizia come tributario Di Machapite E nelle prime missioni Dovrà finire Questa relazione Con Machapite Non avendo nessuna trus Completare la missione Ti darà una colonia gratis Nell'isola di Lombok Questa cosa è molto carina Completarla Ti darà le missioni Expand e Astro World Che ti dà Più 25 cento Gobla Sette in crescita Per tutto il game La missione Machapite Refuggest Ti chiede che Machapite Non esista O che sia un subject In cambio ti dà Meno 80% Di costo a divisore Per i prossimi 20 anni Che non è male Anche claim permanenti Sul java est Oh Anche questo È interessante Andiamo a vedere Intanto Le missioni Eccole qua Sono queste qua Piccoline Molto carina Anche per i Bali In Bali Sembra anche lei Molto carina Ma mi sembra Che è abbastanza difficile Da giocare Essendo Un monoprovincia Allora Nuove idee per Il Malaya e Siam Andiamo a vedere Proprio le idee Di queste due nazioni Che erano Discusse in questo periodo Volevamo saperle E dovrebbero essere Veramente OP Entrambe Mi sa che il Siam È invece Uno delle top 10 nazioni Per le idee E ve le faccio vedere Assolutamente ragazzi Parliamo prima di Malaya Malaya idea Avrà più 10 Land morale Quindi più 10 morale Normalmente Più 15 Global Trade Power Quindi Malaya Già un po' più stabile Ha 10 morale Più 15 trade global Come idea di base Iniziale avrà Più 20 Global Settra increase Che è buonissimo Che puoi colonizzare Più 25% Abilità combattiva Sulle galee Quindi adesso Non vediamo Un'Inghilterra O una Spagna Che va a rompere Il cazzo facilmente In quell'area Ma è comunque combattuta Vediamo la terza idea Che è il 15% 13 efficienza Che non è male Più 15 Navallo morale Che non è malissimo Ragazzi anche questa È più 10 Combat bonus Sulla propria costa Quindi cosa significa Che La flotta De Malaya Ragazzi Potrebbe competere Contro quella Inglese addirittura Penso che sia una Delle flotte Più decenti In questo caso Quella più forte È quella degli inglesi Immagino che sarà Sempre quella più forte Perché comunque C'ha le navi Molto più forti Molto più forti Per il navale Però qua vediamo Un Malaya Che secondo me Ragazzi potrebbe Potrebbe far male All'Inghilterra È qua Praticamente sulle sue terre Potrebbe dominare Il Pacifico Potrebbe Comunque c'è anche il Giappone Ma mi sembra che le terre Non sono proprio il top Per il navale Poi vediamo Poi vediamo Più mercante Più 20% Ship power Trade node Questa è una cosa Buonissima Più 25% Trade Staring power Che non è male Settima idea Grandezza col blu Dei trade Scosto più 10% E ambizione Come ultimo Più 10 ship Durabilità Ragazzi aspetta Ma qua si parla Di una forza Veramente forte Cioè ragazzi È fortissima Questa flotta Potrebbe Veramente competere Cioè ragazzi Questa è Cosa ne pensate Voi live Di questa flotta Scrivetelo intanto Che dopo vi leggo Andiamo a vedere Il Siam idea Che sono molto interessato Perché qua Mi è stato detto Dalla regia Che ha le idee Più forti Nella top 10 Vediamo Vediamo Siam idea Tradizione più 10 morale Come in questo caso Il Malaya Più trade Per cento Global Manpower Modifier Non è malissimo Anzi è abbastanza decente Idea Più uno prestigio Meno 10% Idea a costo Vabbè Abbastanza decente E qui la seconda idea Che sembra molto importante Più 15% Combattability Sulla cavalleria Più cavalleri Fire Pips Buonissimo Questa cosa Sul fire Sulla cavalleria Potrebbe essere Una cavalleria Una delle più Forti forse In fire Idea Più due Diplom Reputazione Non è male Se hai tanti Vassali È ottimissimo Meno 10% Dev costo Ma Bene Ma non buonissima Quinta idea Diplom Annexion Costo Meno 20% Quindi è più facile Annettere Vassali Ti costa molto meno Meno 10% Di costo Della tecnologia Non malissimo Più un assolutismo All'anno Più un legittimità E ambizione Più 5 disciplina È una buona nazione Penso che non sia Proprio nella top 10 Facciamo top 20 Magari Sono dove Siam È forte Però a me Sinceramente Mi ha sorpreso Molto di più Per le idee Quelle del Malaya Cioè In terra È molto più forte Assolutamente Il Siam Ma il mare Malaya Mi ha sorpreso Perché potrebbe essere Ragazzi Uno che potrebbe Una delle nazioni Che potrebbe fermare La flotta inglese Poi ovviamente C'è anche quella veneziana Che non è male C'è quella di Venezia Ovviamente anche quella spagnola Non è malissimo C'è quella inglese Quella giapponese C'è quella ovviamente Adesso del Malaya C'è anche quella del Malac Che fa Forma il Malaya Con lei Beh Non è così Scioccante Vabbè Andiamo a vedere Per oggi è tutto Con questo concludiamo La nostra serie Da 8 dev diari Sul contenuto Per il sud-est asiatico Ci saranno Delle piccole cose Di cui ancora Non ha parlato Nei dev diari E forse altre feature Che appariranno Al rilascio Quindi non Non prendete Questi dev diari Come una lista Esaustiva Di feature Per la 1.31 Vabbè Era anche ovvio Questo Magari ci sarà Qualcosa in più Ci sarà qualcosa Che noi effettivamente Non sappiamo Cosa c'è All'interno Sempre finché Non esce L'aggiornamento Non rilasciano L'aggiornamento Non sapremo mai Effettivamente Quando è la cosa Quanto è perfetto Questo aggiornamento E quanto sia bello Giocarlo Questo aggiornamento Del sud-est asiatico È un qualcosa Su cui ho voluto Lavorare per vari anni Adesso sono molto contento Di avere Di vedere il mio aggiornamento E essere realizzato Prima di finire il mio tempo Sul progetto di Europa Universalis 4 Con questa frase Mi fa pensare Che probabilmente Tra 1-2 anni Potrebbe esserci Europa Universalis 5 Oppure verrà licenziato A sabo di decidere Quello che intende Per il resto Abbiamo avuto Questa notizia Forse ci sarà C'è il continuo Del web diari Ma Spero che l'Australia Sarà una bella parte Da vedere E sarà Bel giocata Ovvero che puoi colonizzare Molto E ci saranno Piccoli popoli Che magari Puoi fare dei picca assurdi Che ti metti a giocare Paesi strani Che dire Adesso anche in questa zona Vediamo imperi Come quelli asiatici Che possono colonizzare Perché effettivamente Chi cazzo l'ha detto Che solo gli europei Hanno colonizzato Nessuno O almeno quello Che vogliono Vogliamo sapere noi Sì ok L'America l'abbiamo colonizzato L'Africa l'abbiamo colonizzato Ma lì quando ci siamo arrivati ragazzi Molto molto dopo E sono sicuro Che lì È stato colonizzato Anche dagli altri Spero Credo Non lo so Non sono uno storico Ma volevo diventarlo Ragazzi Questo è tutto per il nostro Deboran Alla prossima